esagerata vai tuffati no no non andar di qua è di là è di qua è alta no è di là che passiamo di qua è alta di là no poi poi ascolta dai dai normal va va andiamo a fare quello di là il nostro corso gratuito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai, vai, vai. Ma spampi gli altri arrivano. Se non arrivano da qua, arrivano da su. L'ultima ruota, sono io l'ultima ruota. Di solito. Dammi, ma il seme hai detto che è dall'altra parte? Sì, il seme va di là. Ma è andato dove? Allora noi facciamo il giro di qua e andrà. Ma è spampi l'altro, dove sono? E' bello. E' bello. Non smettete di fare quei lavori lì? Che vi bruciano i guanti dopo. Ma io ce lo so per i suoi. Ah, ecco.